Passiamo adesso a presentare invece un gruppo formato da quattro elementi, tre di loro sono fratelli. Il brano che ascoltiamo adesso fa parte chiaramente della loro ultima produzione, hanno l'attivo 2,45 giri. Questo è un classico pezzo melodico italiano con una giusta dose di ritmo. Il titolo è Per una donna, i poster! No, non c'è un'autostrada che ti può fermare se lei t'aspetta sola e tu. Macchina, astronave, si fa vivo il sole dopo un secolo di ore, traffico straniero, un po' di lei con i centoni che hai. No, agli alberchi di città, troppo lontane da l'abitudine che hai di restare insieme. Sonide parole nel giornale di domani Ti sorprende ancora che oramai lei fa parte di te Ma per una donna puoi rischiare di più e non ti fa paura Ma per una donna non ti senti perso mai perché non era lei No, alle notti chiare se non le puoi parlare No, alle lettere se vuoi non le puoi spedire Per l'età migliore con il cielo da toccare Tu che non ti arrendi proprio mai non ti basti da te Ma per una donna mi cominci anche se non hai niente con te Ma per una donna che soltanto per lei il suo uomo sarà Ma per una donna puoi rischiare di più e non ti fa paura Ma per una donna non ti senti perso mai perché non era lei Ma per una donna mi cominci anche se non hai niente con te Ma per una donna che soltanto per lei il suo uomo sarà Ma per una donna puoi rischiare di più e non ti fa paura Ma per una donna non ti senti perso mai Ma per una donna i poster Grazie per la visione